oh buongiorno a tutti amici e amiche di AldiStein benvenuti su AldiStein io sono AldiStein come sapete benvenuto sul mio canale oggi siamo qui a fare questa intro oggi il 21 di ottobre sto facendo questa intro di un video che in realtà abbiamo registrato a metà agosto prima di ferragosto credo con il mio amico a trovare in ferie da roma il mio amico ragno 80 che saluto ne ho fatto questa urban explorer visto che tanto va di moda nel fortino di lama che qua dalle parti di Taranto della mia città siamo fatti un giro abbiamo visitato e non è uscito questo bel video spero che vi piaccia se mi piace fatemelo seguire con un like se vuoi suggerirmi altri posti da visitare io già qualcuno c'è in mente quando tornerà lui o forse qualche parte potremmo anche andarci da solo vediamo vediamo scrivetelo sotto nei commenti se vuoi suggerirmi qualche posto e fatemi sapere se vi piaccio io con un like come il tuo prima iscrivetevi al canale non è ancora fatto condividete 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 e che dirvi perché cliccata la campanella soprattutto la campanella dal cellulare cliccare più di una volta perché a non prende la volta non prende il mi piace quindi cliccate più di una volta vedrete blu cliccate come dicevo la campanella per non perdere in alcun video dei prossimi che arriveranno non so quando arriveranno e dirvi buona visione vi lascio al video ci vediamo al prossimo ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti